Ciao a tutti, in questo video vado a fare un progetto, una lavorazione con tre strumenti nuovi che sono usciti con la versione 1.5.0.0, poi 1.5.0.1 perché c'è stato un patch di aggiornamento per un bug, di Lightburn. Quindi andiamo a vedere sul piano di lavoro cosa utilizzo e come utilizzo. Allora, per prima cosa vado a disegnare una linea guida al centro del piano di lavoro in questo modo. Poi vado a disegnare e vado ad utilizzare la mia tastierina un rettangolo con le dimensioni da 100 x 35 x 35. Lo vado a selezionare, quindi non l'ho selezionato, ho fatto solo questo piccolo errore, a volte mi capita, poi utilizzando il tasto Alt e spostandolo leggermente, vedete, mi si va a posizionare il centro snap centrale perché sto utilizzando quello. Vedete, io prendo sullo snap centrale, clicco Alt, mi avvicino alla linea e lui si va a agganciare perfettamente alla linea. Quindi abbiamo già visto questo in un video precedente e vi metto sopra il link per andare a vedere se non l'avete ancora visto. Poi vado a fare due cerchi e quindi faccio un cerchio in questo modo e 35 mi va bene, poi ne faccio un altro che lo faccio magari questo facciamo un pochino più piccolo, facciamo 30 magari. Quindi lo vado a selezionare, chiudo il lucchetto e lo faccio da 30 in questo modo. Ok. Poi vado a prendere e una volta che li ho portati vicino così, me li vado a posizionare per quello che mi interessa posso fare un pochino più in alto, un pochino più in fuori e questo lo prendiamo un pochino più in alto e un pochettino più in dentro. Così. Così dovrebbe andare abbastanza bene. Ok. Vado a selezionare i due cerchi, poi vado a farmi un'unione booleana in questo modo. Ok. A questo punto voglio andare, utilizzando questa linea guida come un'asse di simmetria, a ribaltarmi quella figura che ho appena unito dall'altra parte del rettangolo. Quindi praticamente me la seleziono, con CTRL seleziono la linea guida e poi vado, penso di averlo selezionato, sì. Allora, poi vado prima sempre quella forma, poi la linea. Ok. E poi con quest'icona che è specchia rispetto ad una linea, lo vado a ribaltare in modo che me la porti proprio in maniera perfetta dall'altra parte del rettangolo. Così avete visto anche una nuova icona di cui forse non avevo mai parlato. Allora, una volta fatto questo, andiamo a fare un'altra cosa. Andiamo a unire tutte le forme. A questo punto c'è un problema, adesso ve lo faccio vedere. Se io vado a unire tutto così, vedete che non mi si illumina il, diciamo, l'assistente booleano. Anche se vado a calcare il tasto sul tasterino non me lo consente, perché? Perché c'è di mezzo questa linea, che è la linea praticamente aperta, per cui le booleane funzionano solo con le forme chiuse. Questa è aperta, quindi io devo andarle a eliminare e quindi la vado ad eliminare. Adesso io vado a riselezionarle tutte e a questo punto con l'assistente booleano, che non mi si apre, perché c'è solamente accesa la forma della, quella che incolla l'unione, faccio così e mi si forma l'unione booleana. L'assistente booleano a volte quando c'è solamente l'unione non si apre, però possiamo farlo tramite l'iconcina dell'unione. A questo punto abbiamo fatto un, vedete un osso, perché voglio fare una medaglietta per un cane, è una cosa molto semplice. La seconda funzione che vi voglio spiegare in questo video sono le nuove funzioni di Radius. Radius l'abbiamo visto nel video che vi metto qui sopra in descrizione, che è quello dove vado a illustrarli un po' tutti, abbiamo visto che se io vado a selezionare una forma rettangolare in questo modo, mi si apre questo pallino blu. Se io vado a spostare il pallino blu verso il sinistra, mi si arrotondano gli angoli. Se lo vado a spostare verso il basso, l'arrotondamento avviene in negativo, quindi con un raggio negativo. Da questo punto cosa faccio? Io questo non lo posso cancellare perché ho detto quello che volevo fare, però voglio utilizzare una nuova funzione di Radius, perché voglio andare ad arrotondare alcuni spigoli, che sono questi quattro spigoli che, mentre prima Radius lo faceva solo sulle forme rettangolari e abbastanza precise, adesso me lo fa su tutti, perché questo non è più una forma rettangolare, ma se andiamo a vedere, con lo strumento di editazione nodi, vedete che questo è diventato un percorso tracciato, quindi praticamente ci sono tutti i nodi. Torniamo alla nostra figura e andiamo a vedere appunto come funziona il nuovo strumento Radius, perché fino a poco tempo fa, fino a prima della 1.5, Radius lavorava solamente sulle forme precise, quindi su rettangoli, su quadrati o su altre forme abbastanza delineate con angoli belli precisi. Qui invece mi va a lavorare anche sui tracciati, quindi praticamente avendo fatto un'unione booleana, cosa è successo? È successo che ho praticamente trasformato questa figura in un tracciato e andiamo a vedere come funziona Radius su questo tracciato. Vado a selezionare Radius con un angolo di 4 e vado a vedere che, vedete che riesco a selezionarmi gli angolini, anche se non sono più come una volta in questo modo, qui c'è un piccolo problema, torniamo indietro di un passo, perché mi sta facendo un problema, che è questo qua. Ecco fatto, l'abbiamo sistemato, c'erano due nodi molto vicini per cui ho toccato quello sbagliato. E questo è il nostro oggetto con il bel Radius su tutte. Guardate, come ha già preso bene la forma in questo modo qua. Abbiamo stondato, anche perché gli angoli vivi, ecco qui molto veramente non lo fa, perché è troppo stretto, ci posso provare, ma non credo che lo faccia un Radius, se non veramente piccolo. Guardiamo, no, forse me lo fa, sì, me lo fa anche qua, e allora lo facciamo anche qua. Avete visto che praticamente in diretta l'abbiamo fatto questo qua. Quindi andiamo a selezionare, anche questo ho tolto lo spigolo vivo. Ecco, dipende anche da quello che mettete nel valore del Radius, quando avete degli angoli molto stretti dovete rimpicciolire il valore del Radius, qui ho messo addirittura uno. Adesso andiamo a vedere un'altra funzione che è stata fatta con la 1.5.00. La funzione di cui vi parlavo era la funzione squeeze di un testo, ovvero sia restringimento, squeeze vuol dire proprio compattare, restringere un qualcosa. Andiamo adesso a mettere in questa sagoma un nome e quindi vado a selezionare il testo, seleziono qua e scrivo Pongo. Ok, in questo modo. Facciamolo anche un pochino più grande, così, che almeno vediamo se riusciamo a fare le cose per bene. La vado a selezionare e me la porto qua, al centro. Diciamo che la voglio rimpicciolire. Quindi, io cosa faccio? Vado a selezionare, avete visto, proprietà della forma. Devo prima andare a togliere lo squeeze, poi dico voglio che me lo restringi fino a una larghezza massima di 80. Ok, imposto 80 e faccio squeeze. Vedete, me l'ha compattato restringendomelo. Però è rimasta, se andiamo a vedere, selezionate 80 per 22, se io torno indietro prima dello squeeze, era 105 per 22, quindi io faccio 80, oppure posso fare anche 75. Lo vediamo in maniera diversa. 75 e poi faccio squeeze. Vedete, me lo rimpicciolisce e poi lo va a restringere. Quindi, praticamente, prima lo rimpicciolisce tutto e poi lo va a compattare in questo modo. Ecco, questa è la terza funzione che è uscita con una delle tante funzioni che è uscita e questa è quella che ho voluto illustrare. Vabbè, non sto a metterci l'anellino a fare quella lavorazione perché tanto sapete benissimo come si fa. Si fanno due anelli, si fa una unione booleana e comunque io vi ringrazio per aver visto questo video fino in fondo, perché se siete fino qua l'avete visto fino in fondo. Quindi, un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando e campanellina. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.